L'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è venuto a mancare all'età di 86 anni. Da qualche settimana era ricoverato al San Raffaele, poi dimesso il 30 marzo e poi ricoverato nuovamente nella giornata di mercoledì 5 aprile in terapia intensiva per problemi cardiovascolari. Durante il lungo governo Berlusconi il mondo della scuola ha avuto diverse riforme che hanno ribaltato l'assetto dell'istruzione. La riforma Moratti. Le riforme legislative dell'allora ministra dell'istruzione Letizia Moratti si sono realizzate durante i governi Berlusconi 2 e Berlusconi 3. Tra le novità, il primo atto fu la cancellazione della legge Berlinguer, la cosiddetta riforma dei cicli, l'istruzione e la formazione professionale formata da percorsi di 3 o 4 anni con riferimento alle regioni, venne ideato lo slogan La scuola delle tre i, internet inglese e impresa, possibilità di accesso alla scuola dell'infanzia a 2 anni e mezzo e alle elementari a 5 anni e mezzo, previsto fin dal primo anno l'insegnamento dell'inglese e dell'uso del computer. L'esame di quinta elementare viene abolito, calo dei programmi ministeriali sullo studio delle discipline storia, geografia e scienze, l'accesso all'università anche per diplomati del settore professionale ma dopo un amma integrativo ed un esame di ammissione. Riforma Gelmini. Per quanto riguarda l'ex ministra Maria Stella Gelmini, le sue riforme sono avvenute durante il governo Berlusconi 4. Come è noto, una delle pecche che i docenti li hanno sempre imputato riguarda i notevoli tagli ai finanziamenti per l'istruzione pubblica, fatti in accordo con l'allora ministro delle finanze Tremonti. Tra le novità, reintroduzione della figura del maestro unico con orario di 24 ore settimanali, valutazione numerica decimale nella scuola primaria, voto in condotta che torna a fare media, prova nazionale degli invalsi di italiano e matematica nell'esame finale di licenza media, taglio delle ore di insegnamento negli istituti tecnici e professionali per quanto riguarda gli insegnamenti cosiddetti di indirizzo, riordino dei licei. Grazie a tutti.